Ciao, come va? Il mio nome è Sara Calloni e oggi voglio dirti la regola numero 1 per poter cambiare la tua vita. Qual è questa regola? Beh, resta fino alla fine del video e lo scoprirai. A dopo! Bene, la prima regola per poter cambiare la tua vita. Cosa ha pensato la tua testa? Già, cosa hai convinciato a pensare? Se comincio a dirti, beh, la prima regola è cambiare il tuo stato di vittimismo. Vedi, il primo stato di coscienza è lo stato del vittimismo, perché se te ti guardi intorno e vedi una vita che non ti piace, c'è qualcosa nella tua vita che non ti piace, sicuramente stai incolpando qualcuno, perché ti sta succedendo questa cosa nella tua vita, perché questa vita è così. È colpa dello stato, non so. Il primo esempio che mi viene in mente è una questione di denaro, perché purtroppo è sempre stata una delle mie fisse. Beh, perché io non avevo denaro? Potevo incolpare i miei genitori, perché comunque non ero nata in una famiglia ricca. Oppure potevo incolpare lo stato, perché vivevo in uno stato dove ti massacrano di tasse e non ti consentono di arricchirti con il tuo lavoro. Oppure ci sono persone che incolpano il proprio livello di studi, che hanno un livello di studio molto basso e quindi non possono raggiungere determinate vette, determinati lavori, determinati obiettivi. Siamo molto spesso in questo stato di vittimismo dove incolpiamo tutto il mondo del perché non possediamo qualcosa, del perché abbiamo perso qualcosa. Ma, ma i primi responsabili di quello che si succede nella nostra vita siamo noi stessi. Perché se ti guardi intorno ci sono persone che sono nate e cresciute in famiglie molto peggio della tua, eppure sono milionari. Ci sono persone che hanno un livello di studio molto inferiore al tuo, eppure sono milionari. Ci sono persone che vivono nel tuo stesso paese, eppure sono milionari. E allora ti dici, perché io? E in questo caso la tua mente comincia a fare una lunga lista di tutti i motivi perché te non sei milionari. Così funziona, così è lo stato del vittimismo. Quindi la prima fondamentale regola è cambiare e passare da vittima a vincitore. Da vittima a una persona cosciente, cosciente che è responsabile della sua vita. Quindi se vuoi cambiare la tua vita, devi cambiare le tue azioni, devi cambiare i tuoi pensieri. Il leader, diciamo, corretto da fare è cancellare il passato, cioè smettere di credere nelle cose che ti sono state conficcate nella testa, nella tua programmazione, che se non hai una determinata cosa, se non fai determinate cose, non puoi raggiungere quel determinato risultato. Quello dimenticalo. Perché se fino a oggi hai ragionato in quel modo e hai agito in quel modo e non hai ottenuto i tuoi risultati, vuol dire che quel modo non è giusto. Una volta che hai cancellato il passato, devi mettere nuove informazioni e questo non mi stancherò mai di dirlo. Leggi, 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 perché di sicuro ci sono tante persone che hanno raggiunto quello che te vuoi raggiungere e hanno scritto un libro. Quindi leggi quel libro. Leggi quel libro e vedi qual è il loro modo di pensare, qual è il loro modo di agire. Una volta che hai appreso una nuova conoscenza, devi metterla in pratica, devi agire, perché se non agisci non raggiungerai i tuoi risultati. Ci sono persone che dicono visualizza il tuo risultato, mettiti lì, mettiti e visualizza e il risultato magicamente arriva. Non funziona proprio così. La legge di attrazione. Attraiamo azione, attraiamo se agiamo. Quindi devi sì pensare positivo, devi sì immaginare, devi sì visualizzare, però devi anche agire perché se non esci di casa e non lavori, non vai verso il tuo sogno, non lo raggiungerei mai. Beh, come sempre spero che questo video ti sia utile e che ti piaccia. Se ti piace metti un bel mi piace e condividilo con i tuoi amici, così aiutiamo anche loro. Se ancora non l'hai fatto visita il mio sito saracalloni.com e agisci e ci vediamo domani. Ciao!